Il mondo politico calabrese plaude la decisione di Franco Corbelli di rinunciare alle primarie istituzionali. Dopo l'incontro di ieri tra i leader del Movimento Diritti Civili e la presidente facente funzione calabrese Antonella Stasi, Corbelli ha annunciato la volontà di compiere un atto di responsabilità rinunciando alla competizione per non gravare sulle casse della regione, che avrebbe dovuto spendere per le primarie istituzionali circa 2 milioni di euro. Secondo l'accordo, il ritiro di Corbelli presuppone però l'emanazione del decreto di convocazione delle elezioni che dovrebbe avvenire entro questa settimana, come predisposto dalla sentenza del TAR calabrese. Soddisfazioni bipartisan nell'apprendere la notizia. Tra i primi a commentarla uno dei tre candidati alle primarie di coalizione del centro-sinistra, Gianni Speranza. Con la rinuncia di Corbelli a partecipare alle cosiddette primarie istituzionali, ha detto il sindaco di La Mezzia Terme, cade anche l'ultimo alibi accampato dalla Stasi e dall'Aggiunta regionale per la mancata indizione delle elezioni regionali. Ora non resta che emanare il decreto con una data certa, così come ordinato dal TAR di Catanzaro. La parola torni ai calabresi, subito al voto per cambiare la Calabria. Il segretario regionale del PD Ernesto Magorno invece parla di una notizia attesa per la quale ha prevalso la ragionevolezza delle forze in campo. Intanto prosegue la preparazione delle primarie di coalizione. Appena sapremo la data del voto, comunicheremo quella delle primarie. In tal senso, conclude Magorno, rendo noto che è stato unanimamente nominato il Comitato dei Garanti delle Primarie, che sarà costituito da Renato Rolli, da Valerio Donato e da Oresse Morcavallo. Prendiamo atto con soddisfazione della rinuncia di Corbelli. Grazie al nostro pressing durato tre settimane, due milioni di euro non sono stati sottratti ai calabresi. E invece il commento del senatore Antonio Gentile, coordinatore regionale del nuovo centrodestra. Io spero che si voti il 26 ottobre o se non fosse possibile il 9 novembre, data del probabile ballottaggio delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Era atteso per ieri sera invece l'annuncio del nome del candidato governatore per Forza Italia, che con tutta probabilità scenderà in campo con il supporto di NCD e Udc. In pol vanda ferro, ma la corsa per l'investitura vede schierati anche l'attuale assessore regionale al bilancio, Giacomo Mancini, e il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. A scegliere il leader forzista Silvio Berlusconi, che si è preso un'altra settimana per studiare la situazione calabrese. Questi regionali infatti risultano essere il primo serio banco di prova per testare la solidità del partito e dell'alleanza con NDC, dopo la scissione del PDL e la ricostituzione di Forza Italia.